A lezione di storia dal 700 a oggi con Giuseppe Galasso, professore di storia medievale e moderna alla Federico II. A partire dal 19 aprile riprenderanno infatti le sue lezioni di storia giunte alla terza edizione, da cui sarà tratto anche un documentario televisivo per Rai Educational. Le conferenze saranno aperte a tutti ogni giovedì alle 18.30 per un totale di 10 appuntamenti fino al 21 giugno nel nuovo Palacongressi della Mostra d'Oltremare. Tema di quest'anno sarà la storia dal 700 a oggi di Napoli e Milano. La rassegna è stata presentata nel foyer del Teatro San Carlo, oltre che dallo stesso Galasso, dal sindaco Luigi De Magistris, da Nando Morra, presidente della Mostra d'Oltremare, e da Giorgio Fiore, a capo di Confindustria Campania. Il professor Galasso aprirà le lezioni con un escursus introduttivo sullo sviluppo della città dall'antichità ad oggi. I seminari successivi di circa 60 minuti saranno divisi tra due storici che relazioneranno su aspetti paralleli delle due città, dalla Napoli-Borbonica alla Milano-Asburgica, passando per il periodo napoleonico, l'unificazione, il fascismo, il boom economico, fino alla crisi e alle prospettive future. Per informazioni è possibile telefonare allo 081 725 8000.